Buongiorno a tutti, sono Giovanni Ziberna e Valeria Baldam e finalmente sono riuscita a stanarla dalla sua postazione di montaggio dei film, giusto? Sì, lo faccio solo per riuscire a dare degli auguri a tutte le persone che non riesco a raggiungere in questo momento come mi sarebbe piaciuto. Io sono molto a disagio davanti alla videocamera, mi sono sempre trovata dietro le poche volte che sono stata davanti è veramente per me un grande disagio però ci tenevo a fare gli auguri anch'io con la mia faccia, mettendoci la mia faccia e poi più tardi volevo fare degli auguri particolari nel modo in cui mi sento più a mio agio esprimerli. Quindi mi raccomando vedete il video fino alla fine perché ci sarà questa sorpresa finale. Nel frattempo voglio anticiparvi un po' di cose che cambieranno nel canale nel futuro in questo nuovo anno hanno nuovi propositi. Prima di tutto farò partire una serie di podcast, di live con delle chiacchierate con ospiti speciali dove affronteremo diverse tematiche non solo quelle del film ma quelle degli esorcismi e poi farò dei video di risposta alle vostre domande. Vi invito a scrivere magari nei commenti di questo stesso video o anche negli altri se volete degli approfondimenti o delle domande specifiche sia sul nostro lavoro, sui nostri film e anche sul nostro percorso di fede, perché no? Ringrazio anche tutte le persone che si sono iscritte e invito chi non l'ha ancora fatto a farlo affinché questo canale possa avere la sua visibilità anche quando metto video nuovi vi arriverà la notifica e quant'altro e vi porto i miei auguri che questo anno nuovo e in specifico questo Santo Natale sia veramente un'occasione per tutti, per passare un Natale diverso ma non solo con la sofferenza di quello che non si può fare, di quello che non possiamo vivere ma fermandosi un attimo a raccogliere l'offerta che ci viene fatta di vivere un Natale diverso da quello a cui siamo abituati di non essere disturbati da troppe interferenze e viverlo veramente in maniera più spirituale e più raccolta col Signore io ripensando ai Natali passati che molte volte il Natale è corso via senza avere tempo per riflettere su quello che era veramente il Natale su quello che si stava vivendo e in questo colpo di freno mondiale che è avvenuto in questo periodo forse il Signore ci richiama proprio a raccogliersi tutti quanti nella grotta insieme a Lui a vivere più spiritualmente questo Natale anche a essere vicini ai nostri cari anche a quelli che abbiamo dovuto lasciare in quest'anno essere più vicini nella preghiera e nell'unione con il Signore non lasciamo passare questo Natale assopiti stiamo attenti allo spirito del Signore che in queste situazioni ancora di più sa parlare a noi e facciamo che questo disagio diventi una grande opzione per vivere un Natale più ricco e sono sicuro che il Signore non mancherà di darci a tutti i grandi grazie quando lo si fa con cuore giusto cosa dici? sono d'accordo sono d'accordo credo che sia questo silenzio forzato ci aiuti proprio a raccoglierci anche in noi stessi credo ci voglia veramente una riserva di luce alle menti e la luce vera non quelle le luci del mondo che stordiscono ma quella che illumina l'anima e la mente abbiamo tanto bisogno di trovare questa via e la pace che anche quella ci può solo essere donata possiamo metterci però noi creare la predisposizione a riceverla e forse gli auguri speciali di Valeria ci aiuteranno a entrare in questo clima di raccoglimento e intanto vi porto i miei auguri di un santo Natale e di un felice anno nuovo grazie a tutti